Ci risiamo, i tre per le chiesi Baby Gang, Zaccaria Mouib per lui è la seconda volta in carcere in dieci mesi e Simba Larou, la min Mohamed Saida, di nuovo in manette. Sono stati arrestati in un'operazione congiunta di carabinieri e polizia per l'aggressione avvenuta a Milano nella notte tra il 2 e il 3 luglio scorso nella zona di Corso Como, in cui erano stati gambizzati due senegalesi. Nell'ordinanza firmata dal GIP Guido Salvini compaiono altre sette persone, una ai domiciliari, sei residenti nelle chiese, compreso il senegalese con casa Garlate che avrebbe sparato e due minorenni. Le accuse, rissa, lesioni, rapina aggravata e porto abusivo di armi. Le intercettazioni e le indagini che hanno portato l'arresto sono legate all'inchiesta che a fine luglio aveva portato in carcere Larou per il rapimento lampo del rivale Baby Touche. Nel video agli atti si vedono i due senegalesi che armati di scacciacani fronteggiano un gruppo di nordafricani che le colpiscono a pugni e con una stampella si tratterebbe proprio di Larou, pochi giorni prima coltellato nella Bergamasca e dunque claudicante. Negli atti di indagine si parla solo di pistole a salve modificate e scacciacani, ma a casa di Baby Gang, che è residente a Sondrio, i carabinieri della compagnia Duomo hanno trovato un'arma vera, una beretta 765 clandestina e con caricatore pieno. Il trapper 21enne è stato intercettato e bloccato nella notte in Viale Monza, direzione Sesto San Giovanni, al volante di un SUV nero. Sempre nelle stesse ore i carabinieri, questa volta quelli di Bergamo, hanno eseguito un'ordinanza di custodia catelare in carcere messa nei confronti dei quattro presunti autori del tentato omicidio ai danni di Simba Larou. Tre giovani e la fidanzata del trapper, Barbara Boscaglia, avrebbe tradito il compagno fornendo l'indirizzo ai suoi aggressori quando il ventenne fu accoltellato il 16 giugno scorso a Treviolo. L'ha confessato lei stessa in una telefonata qualche giorno dopo parlando proprio con il rapper. A settembre Larou, utilizzando il cellulare di una suora operatrice della comunità dove si trovava, è riuscito a mettersi in contatto due volte proprio con la fidanzata. Soggetto, tra l'altro, centrale, scrive il GIP, nella genesi e nel meccanismo dell'aggressione che lo stesso Saida ha subito in provincia di Bergamo. Ich shuto, complimenti, sai e nel meccanismo dell'agulturale��. Grazie.